Sono nel liceo Linares di Licata, sono stato invitato dalla preside greco e dalla professoressa Di Franco per un corso di formazione che riguarda specificamente la grammatica bestianera, secondo le impressioni degli studenti o esercizio quasi inutile per alcuni docenti. In realtà cambiando prospettiva, cambiando basi di questo studio, cioè mettendolo su basi scientifiche che riguardano le facoltà cognitive del cervello umano, diventa una materia affascinante e comunque indispensabile. Si tratta di capire come funziona il meccanismo della struttura della lingua nella formazione delle frasi, che è l'attività cognitiva del nostro cervello, per poi applicare questo studio nella comprensione e produzione dei testi. Lo scopo è questo. Naturalmente questo studio di livello abbastanza impegnativo che ha inizio con la prima media, la scuola primaria ha altri obiettivi, altre operazioni da svolgere, diventa importante per portare gli alunni alla capacità di comprendere e produrre testi complessi. Perché? Per sfidare la complessità del cervello umano? Beh, utilizzarla senza dubbio, perché la civiltà moderna richiede in una grande massa di utenti e di individui una capacità di comprendere e produrre testi ricchi di meccanismi complessi appunto e di diverso tipo, dai testi normativi, giuridici, ai testi tecnico-scientifici e ai testi di informazione comune, fino ai testi letterari. Questa varietà di tipi di testi presuppone che si conosca come il meccanismo fondamentale della formazione della frase nel cervello venga utilizzato, piegato in forme diverse nell'ambito della comunicazione. Sono questi i presupposti di sviluppo delle competenze di lettura e scrittura in tutti i campi, in tutte le lingue naturalmente. Ma è anche importante segnalare che questo esercizio va fatto dalla prima media in poi quando la capacità di astrazione degli alunni c'è e vada svolto per tutti gli anni successivi per portare a questa competenza che è fondamentale nella vita della società moderna.